Mariana Falace e raptus sensuale, la rivincita di Danilo Mariana Falace sembra gradire particolarmente la vicinanza di Danilo Aquino e lo dimostra così. . Incredibile quello che sta succedendo all'interno della casa del grande fratello, lo spettacolo e i colpi di scena di certo non mancano. Un episodio che sta facendo discutere riguarda i concorrenti Mariana Falace e Danilo Aquino. . In un video si vedono chiaramente i due seduti a tavola uno accanto all'altro e la modella, forse colta da un raptus sensuale, allunga una mano e cerca di toccare Danilo. Il gesto stizzito di Daniele Aquino. . Il pubblico, che stava seguendo in real time si aspettava forse una reazione diversa. Contro ogni pronostico il romano, con un movimento deciso, ha fermato immediatamente la ragazza e l'ha allontanata. . Il siparietto si è concluso senza che i concorrenti della casa se ne accorgessero ed hanno continuato tranquillamente a mangiare. Probabilmente qualcosa è cambiato perché all'inizio del reality, la situazione era esattamente l'opposto. Daniele Aquino si vantava con gli altri concorrenti, di aver fatto perdere la testa a Mariana Falace. Venuta a sapere del contenuto delle frasi dette, la modella ha umiliato Danilo di fronte alle telecamere denigrando il suo aspetto fisico e dandogli del pazzo visionario. Mariana Falace sotto accusa sui social. Difficile capire se la ragazza stia solo giocando o se l'interesse sia reale. Con questo episodio si è acceso il dibattito al di fuori della casa che ha causato reazioni contrastanti tra i telespettatori. Mariana Falace è stata presa di mira sul web anche perché, subito dopo l'uscita di Patrizia Bonetti, ha cercato di approcciarsi a Luigi Favoloso in maniera plateale. Molti affermano che questo interesse improvviso è dovuto al fatto che l'ex di Nina Morick, oltre ad essere un personaggio relativamente famoso, è benestante. Tutto l'opposto di Danilo Aquino, un personaggio normale che si sta facendo notare per i suoi discorsi da moralizzatore all'interno della casa. In questi ultimi giorni gli equilibri sono molto cambiati, video, e i veri caratteri dei concorrenti stanno iniziando a venire fuori. È fatto oramai noto che ieri sera Luigi Favoloso e lo stesso Danilo sono arrivati quasi alle mani. Il motivo scatenante è proprio il vizio che il ragazzo di Roma ha di rimarcare in ogni occasione gli atteggiamenti sbagliati di tutti i concorrenti. Secondo molti di loro, infatti, questo comportamento è fastidioso e lo fa apparire come una persona falsa. Non ci resta che aspettare la diretta di martedì su Canale 5 e vedere l'evolversi delle diverse situazioni.